bianca no ho fatto i soldi ho detto bianca stop dopo due secondi polo nord a casa c'è il polo nord grazie a mogolampo e l'abbonamento dario che dici di raccontarci la tua maturità la mia maturità grazie a quando caco sgrodolo bello il nick complimenti grazie anche andre kau nico grazie anche al vecchio dell'alpe insomma la mia maturità allora la mia maturità non me la ricordo molto bene mi ricordo dei momenti mi ricordo il momento il professor pazzini che mi fece una domanda allora io portai come tesina il fumetto credo ai tempi del ventennio fascista cioè la repressione dei fumetti americani i fumetti propagandistici insomma come vi stava vivendo il fumetto l'italia nel ventennio mi pare fosse questa la mia tesina grazie autobot pino per l'abbonamento e a morte 97 e quello fu il mio orale fu il momento più figo perché presi 20 quant'è il massimo all'orale 15 presi 13 14 addirittura che fece un orale veramente buono e tra le altre cose mi fece una domanda tra bocchetto il professor pazzini che parlando di manga tratto beccai il presidente della omissione che era esterno che a cui piaceva mia zaki quindi è biculo perché già ero lesionato e quindi parlamo molto i mia zaki andando totalmente off topic ma fu colpa sua quindi cazzi mia e pazzini mi fece una domanda tra bocchetto dato che si parlava anche di manga a un certo punto mi fa dai l'ho detto che hai parlato di retini e manga mi dici un fumetto italiano in cui i retini vengono usati molto ne abbiamo parlato durante le nostre lezioni e io non è una domanda tra bocchetto però è una domanda che secondo me lui credeva che io non sapessi tant'è che io gli rispondo subito diabolic perché diabolic fa un uso abbondantissimo di retini e lui fece vabbè moccia via stavolta ti è andata bene mi ricordo che stava sapendo e poi grazie a frinico che ne pensi dei professori che non danno 10 come voto boh non lo so in che seguito cioè ok ah per filosofia personale non lo so non so cosa pensare no non ho letto il libro albiscor e insomma andò bene andò bene non mi ricordo mi rivolgo solamente questi episodi mezzetti mi fesce una domanda sulle incisioni al linoleum per il resto ripeto andò abbastanza bene gli iscritti invece tutto copiato eh stai tremendo moxi che cazzo dici no gli iscritti andarono bene a parte il tema presi 7 al tema 7 su 15 preso 7 perché andai completamente fuori tema parlai di parlai di quello che mi pareva a me grazie a billy bordo per l'abbonamento pittura riccio la laurea la laurea me la ricordo di più allora io quando andavo alla laba a firenze cioè mi divertivo tantissimo ma nell'arrivarci soffrivo molto perché io prendevo un pullman da colle salvetti che mi portava a pisa era mezz'ora di pullman poi prendevo un treno per andare a firenze un'ora di treno e poi un altro pullman anche quello da una mezz'oretta che mi portava nella zona dove c'era questa accademia sì a firenze sud quindi era in totale due ore rotte di viaggio ogni mattina e ogni rientro quindi era un incubo sì per due anni e mezzo sono andato avanti io sì l'ultimi mesi di università non studiavo a casa non ce la facevo più andare non seguivo più infatti il professore mi dirò sparì detti la laurea beh io ho avuto una media sempre molto alta che all'esame andavo veramente a fiamma e alla laurea c'è il mio professore di riferimento che era il professore innocenti che era un grande a mio parere grazie a great simone dieci per l'abbonamento la tesi era vabbè la tesi lì dove di pittura dove portare un lavoro e spiegare l'origine del tuo lavoro perché l'hai fatto come l'hai fatto come l'hai creato quali sono i materiali che hai utilizzato cioè dimostrare alla commissione che sai gestire un lavoro artistico dall'inizio quindi dal concepimento all'idea fino alla fine l'utilizzo dei materiali lo studio dei materiali il significato dell'opera ovviamente il perché l'hai creata insomma tutto una cosa veramente figa e io portai un un tris di autoritratti tra virgolette giganteschi erano mi ricordo le dimensioni precise ma secondo me siamo sui tre metri per un metro e mezzo cioè delle robe mostruose grosse forse anche di più ed erano tutte fatte su tela e avevo utilizzato smalti e bitume per per realizzarli e pennello e poi utilizzavo la tecnica del dripping praticamente con un cucchiaino c'è un cucchiaio un cucchiaino inserivo il cucchiaio il cucchiaino dentro allo smalto e poi drippavo appunto quindi sgocciolavo sulla tela e questo inchiostro nero era tutto nero su bianco mi sembra che è abbato nero su bianco forse anche perché sono d'artonio e poi spennellavo dovevo spennellare per fare le sfumature e tutto e quindi ho fatto questi tre autoritratti che cambiavano si deformavano sempre di più e gli ho spiegato perché della deformità e come l'ho realizzato eccetera poi c'erano un po' di domande teoriche insomma era un grosso esame durato un bel po' e è finito tutto mi dettero 109 perché l'innocente me lo ricordo ancora dario io ti dai 110 perché te sei da 110 ma l'ultimo mese dove cazzo sei andato dove eri se mi avevi fatto vedere eh lo so proprio il suo escus e me l'ho dato 109 secondo me invece ha fatto bene non è stato stronzo devo dire la verità no non avevo presenza obbligatoria dovevo almeno fare un terzo delle presenze però ragazzi dovete sapere che devi esserci quasi sempre lì perché comunque professore soprattutto l'innocente voleva seguirci passo passo cioè e soprattutto sviluppare il nostro resto creativo sempre e quindi dovevamo esserci fidatevi che bisognava essere presente alle lezioni sempre con l'innocente perché era un percorso continuo molto intensivo ed era figo e io a un certo punto è come se l'avessi tradito ho smesso d'andare e quindi effettivamente cioè non frequentare un'accademia è difficile cioè è molto diverso rispetto a non frequentare un'università che comunque puoi studiare a casa anche magari utilizzando le registrazioni cioè di solito per le discipline fisiche è meglio sempre vedere anche il lato drammatico Dario sei l'antonomasia del comunista radical chic università falso come la merda centri sociali go 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 mai stato un centro sociale tra l'altro vita mia Dario sei l'altro vita mia Dario sei l'altro vita mia Dario sei l'altro vita mia Dario sai l'altro vita mia Dario sei l'altro vita mia Grazie a tutti.